Lei pensa che forza si potrebbe scoprire un altro talento che si potrebbe far crescere in ambienti italiani? Credo di sì, io credo che quando sono venuto io in Australia ho avuto modo di conoscere una persona veramente eccezionale che non so se è ancora presidente o ex presidente della Delight City che è Bob Zottavi, lui già a quei tempi aveva un'idea di far crescere i ragazzi per poi provare l'avventura diciamo in Europa, in Italia, credo che ci sia del materiale enorme in Australia per poter lavorare, è logico che ci vogliono le strutture che già in Italia ci sono i tecnici, le opportunità da dare a questi ragazzi e la Genova International è una di queste società che cercano di poter dare qualche chance a qualche, da noi si dice giovane, di belle speranze per avere la possibilità di poi magari far parte di un credo europeo o addirittura europeo, spero di poter venire il più presto possibile, perché è una terra è una zona che mi piace moltissimo quest'anno, ok.